Se non ti piace il nuovo album di Future, non ti piace la trap. Sì, lo so, è una frase forte, ma lascia che te la spieghi. Spesso sento dire che questo genere è stancato, che non va più come un tempo, che non escono più progetti realmente trap. Ma la verità è che quando escono non vengono apprezzati, almeno non del tutto. Mixtape Pluto è un progetto di 17 tracce che profuma di trap, prodotto per lo più da Southside. Ma prima di continuare, se ti piacciono questi contenuti, ti consiglio di seguirmi. Nessun beat di metro e nessun feat, solo Future che si alterna in bangers e qualche pezzo un po' più melodico per 44 minuti. Chiaramente non intendo dire che debba piacere a tutti, alla fine parliamo di gusti personali. Ma sento di poter affermare con molta sicurezza che questo sia l'album più trap pubblicato nel 2024 negli Stati Uniti. Ci vedo molti punti in comune con Future, suo progetto uscito nel 2017. Se non sei un suo fan, è normale che alla lunga il suo sound ti possa stancare. Ma se sei un vero fan della trap, quello che ti chiedo è di dargli almeno una possibilità. Per me è un 7- perché devo dare ancora qualche ascolto in più per approfondirlo. Tu invece che voto daresti, scrivimelo nei commenti.